Una volta completata la registrazione arriverà una mail con il link di attivazione. Cliccarci sopra, scegliere come modalità di attivazione OneShot e inserire il codice fiscale, il codice OneShot che è arrivato sul vostro telefonino alla fine della registrazione. Inserire un PIN creato da voi e confermarlo. A questo punto un passo molto importante è scaricare la busta segreta che contiene tutti i codici relativi alla vostra firma remota. Premere Attiva. Inserire il PIN precedentemente creato e l'OTP che intanto è arrivato sul vostro telefono. A questo punto la firma remota è attiva. Grazie. 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 Grazie.